Un caro saluto amici di itinerari agroalimentari d'Italia dal Parco Nazionale del Pollino, il versante lucano di questo incantevole polbone verde d'Italia. Siamo nel palafrido di San Severino Lucano per una nuova tappa di Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche. Sei fresca lì della vecchia? Respiri un po' d'aria? L'aria qui è molto fresca. Perfetto, bravissima. Automaticamente tanti, tanti ospiti, tanti, tanti ospiti per questa mostra che promuove le peculiarità della Basilicata in Italia e nel mondo. Vado subito, naturalmente, prima di presentare gli ospiti alla mia destra, iniziamo dai padroni di casa e passo subito il microfono a Lidia Lavecchia che presenta i suoi ospiti alla sua sinistra. Perfetto, grazie Nino, grazie amici per seguirci sempre molto numerosi, mi raccomando, sui nostri canali YouTube e Facebook. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo il primo cittadino di San Severino Lucano, il dottor Franco Fiore, per averci invitato in questa bellissima location. Buongiorno, buongiorno a lei. Niente, l'evento organizzato è davvero interessante. Noi evidenziamo tutte queste bellezze di Basilicata. Sappiamo di avere paesaggi incontaminati, di avere delle coste meravigliose, abbiamo storia e cultura, la Basilicata non è solo Matera, è anche l'interno e qui ci troviamo per l'appunto in un'area interna nel Parco Nazionale del Pollino. Chiaramente noi proponiamo come fatto specifico quelle che sono le nostre peculiarità e facciamo riferimento sia ad aspetti ambientali, nello stesso tempo alla enogastronomia, ma ne approfittiamo anche per esporre, per mettere in mostra delle opere d'arte di artisti locali, quali Rocco Perrone, Laiannuzzi, Franco Dattoli, che veramente hanno tracciato gli elementi caratterizzanti della nostra area e i nostri luoghi. Questo momento è correlato anche con tanti altri eventi che durante la stagione estiva noi organizziamo. Partendo da fine settimana prossima e dal Pollino Music Festival, che vedrà qui la presenza di artisti che piacciono tanto ai giovani, che si occupano e che portano avanti musica rap, ci inoltreremo poi nel corso del mese di agosto in altri eventi che riguardano gli itinerari gastronomici, aspetti anche incontri di tipo ambientale, una riunione, un evento che fa riferimento al Pollino quale Geoparco, per il quale il Pollino è diventato patrimonio dell'UNESCO, per procedere poi durante tutto il mese di agosto in questa direzione, per arrivare poi nel mese di ottobre in relazione con Capitale per un giorno, Matera 2019, ad organizzare un grande evento che prende il nome Keramos, che sarà una mostra di opera e scultore, cui parteciperanno artisti che vengono da tutte le parti di Europa e sarà davvero un momento interessante per qualificare ulteriormente il nostro territorio. Perfetto Sindaco, grazie mille. Grazie mille. Grazie.